Nona partita, una delle più belle in assoluto secondo me. Il titolo, sempre tratto dal libro 60 partite da ricordare, è Sull'orlo dell'abisso. Un titolo che è tutto un programma, quindi mettetevi comodi. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao, io sono Danilo Di Stasio e questo è Follemente Scacchisti, il canale italiano di scacchi più folle che ci sia. Qualora non l'avessi già fatto, ti ricordo di cliccare sul tasto iscriviti che trovi qui sotto e attivare la campana per le notifiche in modo da non perdere nessun aggiornamento. Siamo arrivati alla nona partita del libro 60 partite da ricordare. Il titolo, come abbiamo già detto nell'intro, è tutto un programma. Si intitola infatti Sull'orlo dell'abisso e senza volervi accennare niente procederei direttamente con la lettura dell'introduzione che rende molto l'idea. Il torneo è Zurigo 1959, l'avversario è, come definisce stesso il GM Evans nell'introduzione, un maestro europeo di secondo piano, il maestro Walter. In questa partita Fischer sembra spacciato dopo sole 17 mosse ed ammette che sarebbe stato pronto ad abbandonare alla 36esima. Tuttavia riesce a tirar fuori una patta miracolosa da un finale ormai senza speranza in cui aveva non uno ma ben due pedoni in meno. Ripetutamente Walter si lascia sfuggire l'occasione di vincere permettendo a Fischer di prolungare la lotta fino alla sospensione che abbiamo già detto che all'epoca venivano sospese le partite in passato. Sospensione che avviene alla 54esima mossa. Ciò che rende notevole questa partita è la dimostrazione di come un grande maestro sappia recuperare dopo aver iniziato malamente e di come un giocatore più debole, dopo aver magistralmente conseguito una posizione tra virgolette vinta, manchi spesso della tecnica necessaria per infliggere all'avversario il colpo di grazia. Come diceva Capablanca, di bravo giocatore e sempre fortunato. Quindi già questa introduzione brividi sulla pelle. Ma andiamo a vedere le mosse. Tra l'altro è stata una difesa siciliana quindi con una Neidorf che ormai Fischer giocava da tempo, quindi con a6 e il bianco ha scelto una delle varianti se non la variante più aggressiva ovvero quella con alfiere g5. E6 la risposta di Fischer, f4, alfiere e7. Già qui piccola pausa perché come commenta lo stesso Fischer dice più rischiosa donna b6 ovvero la famosa variante per i più esperti del pedone avvelenato. Pedone avvelenato che sarebbe questo pedone in b2 proprio perché il bianco si disinteressa della difesa di questo pedone. Il nero cattura torre b1 donna a3 e lo stesso Fischer dice questa linea è quella che ho adottato in seguito nella mia carriera scacchistica con successo. Quindi in realtà è ancora una linea molto dibattuta su insomma il reale vantaggio che può avere il nero o il bianco perché comunque c'è stato un pedone sacrificato da parte del bianco in cambio delle iniziative di questa donna un po' fuori gioco se vogliamo in a3. Vediamo invece che cosa è successo in partita. C'è stata la risposta alfiere e7 quindi decisamente più tranquilla e se vogliamo anche la linea principale quindi donna f3 e qui prima in precisione di Fischer che gioca cavallo bd7 dicendo. Più precisa è donna c7 la quale impedisce lo sviluppo dell'alfiere bianco in c4. Con cavallo bd7 il bianco può giocare al posto della mossa del testo che ha giocato ovvero a rocco lungo proprio alfiere c4 e Fischer riporta questa variante dice alfiere c4 a questo punto è forte perché il nero non può rispondere con donna c7 proprio perché eseguirebbe un sacrificio tematico ovvero alfiere per e6 F per e6 cavallo per e6 la donna è sotto attacco il pedone g7 è sotto attacco e quindi il nero chiaramente salva la donna cavallo per g7 re f7 cavallo f5 e quindi il bianco è vero che ha sacrificato un pezzo ma ha ben tre pedoni per il pezzo con un attacco dirompente e una posizione effettivamente sostanzialmente vinta. Torniamo quindi all'analisi della partita perché il bianco non è stato così preciso e ha giocato a rocco lungo quindi Fischer subito a questo punto gioca donna c7 proprio per non rientrare nella variante che abbiamo visto prima e quindi il bianco è costretto sviluppare l'alfiere in d3 una casa sicuramente meno attiva perché questa è la diagonale più interessante per il bianco. Fischer quindi inizia la manovra d'attacco tipica sull'ala di donna quindi con b5 l'idea chiaramente è quella di spingere questi pedoni in particolar modo la spinta b4 e poi leggeremo infatti anche il commento. Alfiere d3 abbiamo detto b5 alfiere per f6 anche qui attenzione sempre ai colpi tattici perché se alfiere per f6 si mette in evidenza la debolezza del pedone d6 e quindi può diventare molto forte il sacrificio in b5 quindi dopo cavallo d per b5 la donna è sotto attacco diciamo donna b6 e il bianco può catturare anche in questo caso tre pedoni per il pezzo e far perdere il diritto all'arrocco al re avversario quindi anche in questo caso con un netto compenso anche perché dopo cavallo per c8 torre per c8 torre per d7 il bianco recupera anche buona parte del materiale sacrificato in partita chiaramente walter se ne è accorto perché è vero che è un maestro di secondo piano però comunque un maestro quindi non ha giocato alfiere per f6 ma ha giocato cavallo per f6 torre h e1 la risposta di walter alfiere b7 quindi una mossa penserete voi di sviluppo tra l'altro si attacca il pedone sta sulla stessa diagonale della regina invece no perché dice fisher come imparai in seguito vedasi la partita numero 15 quindi tra un mesetto più o meno lo scopriremo tra 5 puntate 5 6 puntate il nero deve spingere in b4 giocando alfiere b7 e poi d5 quindi in realtà fisher è come se avesse un po invertito l'ordine delle mosse quindi deve spingere in b4 non appena ne ha l'opportunità in partita invece è stata giocata alfiere b7 il bianco ha risposto con re b1 quindi ignorando a questo punto la minaccia di b4 che fisher ripropone nel senso dice lui gioca torre c8 però dice ancora una volta dovevo giocare b4 e quindi così come io nero dovevo giocare b4 il mio avversario walter doveva giocare al posto di re b1 a3 proprio per difendere questa casa e impedire la spinta offensiva a costo di ripetermi si imponeva ora a3 l'abbiamo detto torre c8 lo svantaggio di questa mossa è dato dal fatto che il nero ora non ha più possibilità di arroccare lungo di nuovo la mossa giusta era b4 e riporta questa linea cavallo ce2 g6 per tenere un occhio in più su f5 g4 riproponendo la minaccia e la rottura al centro con e5 cavallo b3 d5 quindi un gioco molto attivo con il nero che a questo punto prende effettivamente il controllo dell'iniziativa in partita tutto questo però non è successo proprio perché b4 non è stata giocata e fisher ha giocato invece torre c8 che commenta addirittura con un punto interrogativo quindi come un vero e proprio errore la risposta del bianco è stata invece precisa quindi con g4 e l'attacco con questi tre pedoni che inizia a farsi effettivamente pericoloso però dice ancora una volta al posto di g4 la mossa più corretta era a3 per prevenire quindi prima una mossa difensiva per prevenire il piano del nero con b4 e poi la mossa offensiva con g4 comunque fisher non l'ha giocata b4 proprio perché entrambi i giocatori a questo punto non la ritenevano una minaccia così forte è stata giocata invece cavallo d7 g5 e qui un altro errore cavallo b6 sempre perché collegato a b4 che non è stata giocata perché riporta fisher dopo b4 cavallo c e 2 il nero poteva piazzare il cavallo nella casa c5 che sicuramente più attiva magari anche minacciando un cambio sull'alfiere del bianco in partita invece dopo cavallo b6 è seguita f5 punto esclamativo e 5 chiaramente il nero non può permettersi di aprire le linee centrali di aprire il centro in generale perché sta ancora con il re al centro quindi sarebbe un massacro e allo stesso tempo dice fisher stavolta invece b4 sarebbe sbagliata proprio perché b4 viene risposta da f per e6 e qui il bianco praticamente rompe tutta la struttura difensiva del nero con una posizione definitivamente vincente in partita quindi fisher gioca e5 f6 la risposta di walter punto esclamativo proprio perché si attacca l'alfiere si distrugge l'arrocco anche sull'ala direi g per f6 alfiere f8 dice fisher io in partite avevo pensato di rispondere ad f6 e per d4 però poi mi sono accorto che il bianco aveva un'ottima risposta con cavallo d5 ed effettivamente è così perché come abbiamo detto il cavallo non può essere catturato perché si aprirebbe questa colonna con l'alfiere che risulterebbe poi inchiodato quindi immaginiamo una situazione del genere e qui anche dopo g per f6 g per f6 il bianco recupera materiale con il re nero che non ha più un posto sicuro dove rifugiarsi e quindi il bianco ha sicuramente un vantaggio decisivo anche in questa posizione motivo per cui quindi su f6 g per f6 g per f6 fisher gioca alfiere f8 guardate qua che posizione sembra assurdo pensare che il nero sia un giocatore del calibro di fisher il re ancora non arroccato gli arrocchi di sostanzialmente distrutti l'alfiere che è tornato nella casa di partenza tutti i pezzi praticamente che non stanno facendo granché direte voi ma questo come ha fatto a diventare campione del mondo lo vedremo nella seconda parte della partita cavallo d5 qui il bianco sta giocando semplicemente meglio l'idea è giusta quella di aprire la colonna e fisher lo capisce e si sposta anche perché l'inchiodatura impediva al nero di catturare questo cavallo cavallo che comunque viene dato insieme al pedone proprio perché l'avversario di fisher vuole aprire quante più linee possibili sulla povero re avversario quindi dopo donna per c6 la risposta del bianco chiaramente alfiere 4 perché non vuole cambiare ulteriore materiale donna b6 donna h5 adesso iniziano a mettersi in evidenza tutte le debolezze dello schieramento del nero re c7 fisher prova a scappare alfiere f5 torre d8 donna per re b8 donna e6 quindi con tutti i tipi di inchiodature possibili donna c7 la difesa di fisher e qui la famosa alzata di torre o come dicono gli americani rook cliff quindi la torre che sale sulla terza traversa per entrare in gioco e in questo caso attaccare la donna alfiere h6 la mossa di fisher torre c3 donna b7 f7 quindi il pedone che diventa ancora più minaccioso e soprattutto toglie due case importanti alle torri quindi con anche in futuro in alcune linee una minaccia proprio di promozione in questo caso fisher ci tiene però a sottolineare perché siamo arrivati in un punto abbastanza critico il bianco gioca molto metodicamente non andava ora la mossa che magari anche alcuni di voi avranno preso in considerazione torre per d6 che sembra guadagnare un pedone ma che in realtà porta immediatamente alla sconfitta per via di donna h1 torre h1 e donna per o torre per ed è matto quindi fate sempre attenzione alla matto del corridoio con l'ultima traversa debole f7 invece la mossa della partita quindi ancora una volta la precisione dimostrata torre cd3 proponendo a questo punto una minaccia effettiva sul pedone d6 alfiere f8 che difende il pedone e qui il colpo tattico riuscite a vederlo mettete in pausa vediamo se ci riuscite vi do 3 2 1 soluzione l'avversario di fisher il maestro walter la vede e la gioca donna per e5 mossa decisiva il nero è ormai perduto e dice fisher qualsiasi rassomiglianza con una partita a scacchi è dovuta a pura coincidenza quindi anche fisher si rende conto che ha giocato male è in una posizione pessima e sta addirittura pensando di abbandonare qual è l'idea basta proseguire con le mosse della partita dopo d per e5 quindi con sacrificio di donna segue torre per d8 re a7 e torre d7 quindi con questa inchiodatura il bianco recupera il materiale sacrificato e guadagna dei pedoni quindi h5 torre per b7 re per b7 c3 re c7 e questo è il momento decisivo dice fisher a questo punto stavo per abbandonare ma aspettai per vedere che mossa avrebbe fatto il bianco il bianco qui se andate a vedere col motore non ha giocato una mossa compromettente è pur sempre in vantaggio a un pedone in settima i pezzi tremendamente più attivi tutti i pezzi del nero legati quindi il commento di fisher forse un po esagerato però rende effettivamente bene l'idea di un concetto strategico molto importante vediamo meglio che cosa intendo con questa frase la mossa giocata in partita è stata torre a 8 quindi attaccando il pedone e creando delle minacce fisher avrebbe dichiarato che su torre e 8 da lui considerata molto più precisa avrebbe obiettivamente abbandonato e perché questo perché l'alfiere è legato e non si può muovere la torre è legata all'alfiere se anche va in g7 chiaramente con il cambio dei pezzi c'è poi la promozione della donna del pedone che va a quindi è tutti i pezzi del nero sono sostanzialmente legati e il nero è in una sorta di posizione di zugzwang dopo torre 8 avrei abbandonato infatti il nero ora non ha più mosse il bianco deve solo portare il proprio re in e4 e il nero è in zugzwang quindi proprio come dice fisher la mossa giocata in partita torre a 8 invece è come se lasciasse qualche speranza in più al maestro americano che quindi decide di non abbandonare e di andare alla caccia del pedone f7 che in questo momento rappresenta la minaccia maggiore e quindi torre per a6 re e7 torre e6 scacco re per torre per b4 presa 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 h3 re f6 torre b5 attaccando l'alfiere alfiere d6 alfiere e4 torre 8 una fase un po' di transizione torre f5 scacco re g7 quindi con il re che torna indietro alfiere f3 attaccando il pedone torre e1 scacco re c2 torre f1 quindi sfruttando l'inchiudatura dell'alfiere che non può mangiare nemmeno la torre che può mangiare perché altrimenti cadrebbe il pezzo torre d5 chiaramente per il bianco è molto più favorevole un finale di torri piuttosto che un finale di alfieri di colore contrario quindi finale di alfieri di colore contrario è l'unica speranza che ha il nero in questa posizione di provare a battare e qua il momento critico proprio per questo motivo fisher decide gioco torre f2 in modo che cambio le torri non torre per f3 che cambio gli alfieri qual è l'idea che il bianco gioca torre d2 perché se re b1 sullo scacco quindi torre f2 scacco re b1 diciamo ci poteva essere magari un'idea del tipo alfiere a3 b per a3 torre per f3 torre per h5 e torre per a3 ma come dice lo stesso fisher il finale con i soli alfieri di colore contrario è quello che offre al nero le maggiori possibilità di battare mentre in relazione a questa variante dice anche così per il nero non c'è speranza e quindi dopo torre d2 fisher entra in questo finale finale di alfieri di colore contrario re d3 quindi parte la corsa dei re e questo è il momento critico andiamo a leggere il commento in partita è stata giocata a4 e che ci crediate o no questa è una mossa che porta alla patta questa spinta spontanea fa sfumare la vittoria lo svizzero fontana compositore di diversi studi ha dimostrato che la via per vincere è la seguente e fisher riporta questa variante b4 quindi si spinge questo pedone patta si spinge quest'altro è vinta b4 re c7 re a5 quindi con l'idea di spostare il re che deve proteggere e sostenere l'avanzata del pedone b re b8 b5 alfiere a3 b6 re c8 re a6 re b8 alfiere g2 perdita di tempo utile proprio perché a questo punto si muove l'alfiere e quindi segue a4 oppure si muove il re e segue re a7 quindi il bianco riesce a spingere e a proseguire con il suo pedone b stessa cosa non è possibile con il pedone a quindi tornando alla posizione della partita vediamo come in a4 con la spinta in a4 segue re c7 b4 re b8 a5 e adesso una volta che il re nero si è piazzato in a7 quindi si creerà una vera e propria fortezza sulle case scure con in particolare l'alfiere che andrà ad attaccare i pedoni da dietro quindi su queste due diagonali proprio perché l'idea del nero è quella di sacrificare questo alfiere per i due pedoni in modo da entrare in una posizione di patta teorica perché il pedone nonostante il vantaggio materiale di pedone e alfiere la casa di promozione h8 è di colore opposto al colore dell'alfiere e quindi la posizione è patta e non si riesce a promuovere basta che il re riesce ad arrivare in una di queste tre case quindi questa era tutta la l'idea la linea difensiva di fisher vediamo com'è andata a finire re c4 alfiere g3 b5 alfiere f2 quindi chiaramente adesso b6 renderebbe realtà quello che fisher stava desiderando da tempo quindi sacrificare l'alfiere per i due pedoni motivo per cui il bianco gioca alfiere 2 alfiere 3 re b3 alfiere d2 attaccando il pedone scacco re b7 re a4 difendendo il pedone a5 re c6 alfiere b5 re c5 e qui i giocatori si sono accordati per la patta poteva continuare per qualche altra mossa ma il concetto non cambia ovvero dopo b7 alfiere f4 che controlla la casa di promozione a6 per difendere il pedone e re b6 il blocco sulle case nere esercitato dal nero in questo caso è praticamente insuperabile e quindi la partita è finita giustamente in pareggio un'altra dimostrazione di come fisher nonostante una posizione decisamente da abbandono come egli stesso ha confermato sia un giocatore pieno di risorse che è riuscito da una posizione persa a rimontare in un finale comunque inferiore perché con due pedoni in meno ma con un po di astuzia e un po di esperienza ad entrare in questo finale di alfiere di colore contrario e anche con un po di fortuna pattare questa che sembrava una disfatta spero che il video vi sia piaciuto vi mando un forte abbraccio e ci vediamo settimana prossima ciao 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 ciao